Eccoci quindi qui ragazzi allora, buongiorno a tutti e benvenuti nel primo di una lunga serie di video che ho intenzione di caricare ogni mattina. Visto che la scuola sta volgendo al termine e visto che le notizie di mercato stanno aumentando vertiginosamente, ho deciso per darmi un po' più di spazio nell'arco della giornata di caricare giornalmente un video la mattina. Ancora non ho deciso l'ora in cui caricherò questo video ma comunque di lì in poi ogni video, ogni giorno sarà caricato a quella stessa ora. Detto questo ragazzi allora, ieri sera Gianluca Di Marzio ha lanciato la bomba di mercato che qualcuno secondo me sicuramente già si aspettava. A quanto pare la Juve ha già un accordo definitivo con Federico Chiesa per l'approdo appunto del giocatore in maia bianconera per la prossima stagione. Un accordo che si sarebbe trovato già con la vecchia proprietà dei Della Valle ma che ancora deve essere limato e ultimato con la nuova proprietà della Fiorentina. Un accordo che dalle prime voci prevederebbe una spesa economica di circa 70 milioni di euro, si dice, ancora non è ufficiale, e al giocatore verrebbero versati 5 milioni all'anno tramite un quinquennale. Quindi andrebbe a guadagnare all'incirca 25 milioni in 5 stagioni. E da questo aspetto capisco perché Chiesa abbia trovato subito l'accordo con la stessa Juve. Allora, premetto che non sono stupito perché giocatori ex Fiorentina ormai nella loro carriera secondo me hanno una legge che devono per forza giocare nella Juve prima o poi. Mi vengono in mente i vari Quadrado, Bernardeschi e appunto lo stesso Chiesa. E sinceramente mi aspettavo anche una sua possibile partenza quest'estate perché se è vero che la speranza dei tifosi era di farlo diventare una bandiera e se è vero che qualche giorno fa è uscito un comunicato nello stesso sito della Fiorentina che lo blindava comunque la stagione disastrosa fatta dalla scorsa stagione, scusate la ripetizione, influisce. Influisce perché Chiesa è un giocatore secondo me ambizioso, un giocatore dall'indubbio potenziale tecnico che però ancora non è riuscito ad esprimere al meglio. Io vi dico la verità, per 70 milioni non lo prenderei mai. Allora io non lo dico perché lo sta prendendo la Juve, anche se fosse stata accostata la Roma io 70 milioni per Chiesa non le spenderei perché se è vero che può ancora crescere molto per me sarebbe veramente un rischio troppo grande cioè magari la Juve se lo può permettere perché ha un ambiente già formato e potrebbe farlo rendere bene fin da subito fatto sta che nella Roma probabilmente non farebbe sicuramente le stesse cose che appunto farebbe con la maglia bianconera e sostanzialmente noi non ci possiamo permettere di spendere 70 milioni per un singolo giocatore. A questo punto il suo possibile arrivo alla corte del nuovo allenatore della Juve mi fa pensare che probabilmente ci saranno molte partenze per quanto riguarda il reparto offensivo perché ci sono diversi giocatori che devono trovare una sistemazione. Il primo che mi viene in mente è Quadrado che ormai credo abbia finito il suo ciclo con la Juve oppure Mandzukic anche se Mandzukic lo reputo un po' meno partente perché ha rinnovato da poco ed è comunque un giocatore che fa sempre comodo magari lo metti negli ultimi minuti ti aiuta a tenere palla, ti aiuta nei colpi di testa quindi dubito che Mandzukic potrebbe partire almeno questa stagione anche se un altro possibile aspetto che qualcuno magari non ha considerato è che l'arrivo di un giocatore esterno come Chiesa, veloce, intraprendente, aggressivo anche un po' simulatore, diciamo tutti quanti gli aspetti potrebbe essere un preludio alla partenza di Dybala perché adesso è una cosa che penso io, non è che ho letto da qualche parte una cosa del genere però l'arrivo di un giocatore esterno per circa 70 milioni considerando che Cristiano Ronaldo ha il posto fisso e anche che altro c'è davanti, madonna Mandzukic? non so, comunque considerando che secondo me due posti fissi già ci sono la partenza di Dybala non sarebbe impossibile perché in questo caso la Juve si potrebbe permettere di avere un esterno forte come Chiesa un altro esterno formidabile come Ronaldo che si compenserebbero perché uno sarebbe l'esperto uno sarebbe il giovane e al centro se si concretizzasse questo scambio Dybala e Icardi avrebbe un attaccante di indubbio valore un attaccante secondo me di fama internazionale che se ne dica di quelli che lo criticano perché ha la moglie che lo comanda eccetera eccetera io parlo puramente a livello tecnico avere un tridente formato da Chiesa, Icardi e Cristiano Ronaldo sarebbe veramente importante perché uniresti l'esperienza dei grandi all'entusiasmo dei giovani perché Icardi nonostante giochi ormai da tanti anni è ancora molto giovane quindi ha ancora tutte le potenzialità per fare ancora meglio di quello che ha fatto finora in Maya Nerazzura questa è una mia ipotesi di mercato non la prendete come voce reale perché dopo se non succede non voglio sentire eh tu gli avevi detto il falso le tue fonti dicono una falsità no, la mia fonte è me stessa ecco quindi non prendete le mie parole come semplice idea però guardandola un po' sotto questo aspetto non sarebbe neanche tanto assurdo quindi vedremo un po' come si evolverà questa trattativa vedremo se alla fine la Juve riuscirà ad accaparrarsi Chiesa alla propria corte vedremo un po' se la nuova proprietà della Fiorentina vorrà farlo partire e soprattutto cosa vorrà fare con quei soldi anche se io senza occupargli in nessun modo sono convinto che la Fiorentina l'anno prossimo farà una buonissima stagione perché è sempre successo così dopo stagioni disastrosi si è sempre un po' rialzata come quando arrivò quint'ultima nel 2011 poi l'anno dopo con Montella rischia di andare in Champions League quindi anche questa è una mia idea quindi vedremo un po' e in ogni caso la Juve farebbe un gran colpo anche se ve lo ripeto io per 70 milioni almeno adesso non lo prenderei ma la Juve dal canto suo se lo può tranquillamente per mettere detto questo ragazzi allora fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate non solo del possibile affare Chiesa Juve ma anche di tutte quelle affari che potrebbero concatenarsi dopo il suo arrivo in Maya Bianconera e fatemi sapere anche nei commenti se è una buona idea secondo voi iniziare a fare video mattutini credo verso le 10 e mezza più o meno per parlarvi appunto più di calcio mercato perché se così se mi dite che vi va bene diciamo penso di fare almeno 3 video al giorno uno lo dedico la mattina al calcio mercato gli altri due a seconda di quello che succede cioè se ci sono solo voci di mercato parlo di voci di mercato sia inerente ad altre squadre che inerente alla Roma se succede qualcosa inerente alla Roma che ne so un allenatore DS questo e quell'altro sostituisce uno di quei video ecco sostanzialmente ultimo appunto da dirvi un saluto e sempre comunque Forza Roma ciao ragazzi